Grande motivazione e volti nuovi nella Lavagnese. La squadra è pronta al debutto domenica Sesti Levante contro il Riva Samba, forte del passaggio del turno in Coppa Italia. Abborda il campionato di eccellenza nel segno del rinnovamento. Per cercare di riportare la Lavagnese dove penso che meriti e dove è stata negli ultimi 21 anni, ossia la Serie D. Affronteremo questo campionato di eccellenza consapevoli delle nostre forze, però sempre penso con l'umiltà che ci deve contraddistinguere dall'inizio alla fine. La retrocessione non ha affossato la società, anzi ha acceso nuove energie. Stefano Compagnoni, presidente da 24 anni, ha incaricato i direttori, sportivo Andrea Croci e generale Giacomo Nicolini, di trasformare la squadra e portare entusiasmo per compiere il salto di categoria. Una squadra molto forte, poi sarà il campo a dire se effettivamente ha fatto bene, ma io sono convinto che sta lavorando molto ma molto bene. Stiamo cercando di fare le cose nel migliore dei modi, abbiamo tantissimo entusiasmo, sbaglieremo perché, ripeto, siamo giovani, ma ce la metteremo tutta per fare le cose fatte nella maniera migliore. Il format del campionato 18 squadre piace a Mr. Cammaroto, che ha a disposizione il giusto mix tra giovani e giocatori d'esperienza. Un gruppo che personalmente mi dà soddisfazione all'anare perché vengono sempre al campo divertendosi, col sorriso, penso l'idea piaccia e quindi già quando ci sono queste basi si parte già vantaggiati. Auguri di buon campionato anche dal sindaco Mangiante, la nostra è una delle società Liguri più longeve, ha spiegato, per poi annunciare una decisione di giunta di queste ore, l'affidamento in concessione del campo di Via Echengren alla Lavagnese per sette anni per la scuola calcio.